E' cotta pescolare! Lo facciamo un bel pacchero semplice semplice, pesto di rucola, rucola selvatica a foglia larga dell'azienda agricola di Benedetto. L'avete vista già in occasione del World Pasta Day, buonissima. Una cremina di gorgonzola, semplicissimo. Ho semplicemente messo il gorgonzola con un po' di acqua di cottura in microonde. Faccheri in una ciotola in compagnia del nostro pesto di rucola e andiamo ad impiattare. Ho scelto un impiattamento un po' diverso dal solito, un po' più in stile gourmet. Andiamo con la nostra crema di gorgonzola e per finire una polvere di pomodori secchi. Pesto di rucola. Ma se l'hai fatta con frullatore? Questi disturbatori. Pesto di rucola. Crema di gorgonzola. Polvere di ciliegino secco. E' cotta per scolarvi.